Simone Pangia, autore di un'opera letteraria che presenti nella tua città, come ti senti a presentarla a Formia? È sempre una grande emozione il confronto con il pubblico, dopo il periodo che abbiamo vissuto lo è ancora di più, figuriamoci nella mia città con tante persone che mi conoscono, che mi vogliono bene, che hanno anche letto il libro, ho avuto ottimi risponti per cui felicissimo. Un libro che poi è stato premiato con il premio Bukowski, quindi una fatica veramente ricompensata. Sì, il premio Bukowski lo ha vinto quando era ancora un inedito, nel 2020, ormai sono passati già diversi mesi, però devo dire che ha portato fortuna perché mi ha consentito di pubblicarlo poco tempo dopo e poi da quando è migliorata un po' la situazione del Covid stiamo riuscendo a presentarlo, è davvero una bella esperienza. Tu hai affermato leggendo sui social scrivere e come interpretare un'altra persona, quanto ti senti il tuo personaggio? I personaggi del libro sono più di uno. Io credo che qualunque autore è dentro ognuno dei suoi personaggi senza rappresentarlo poi pienamente. Si rivive la realtà che si conosce e si rappresenta secondo il proprio immaginario. Grazie.